Un operaio 44enne di Moriago della Battaglia sta lottando per la vita dopo essere precipitato nel pomeriggio da un'impalcatura di 5 metri mentre si trovava al lavoro. Il grave infortunio verso le 15 alla Mab Home Forniture di Meduna di Livenza, l'operaio che ha riportato gravi feriti all'addome e alla testa e diversi altri traumi in varie parti del corpo, è stato elitrasportato d'urgenza al cafoncello dove si trova ricoverato in prognosi riservata.